E' stata fissata per domani 14 luglio alle ore 20 e 15 in prima convocazione una seduta del Consiglio Comunale in sessione ordinaria e urgente per la trattazione della proposta di adozione del regolamento Servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti urbani assimilati, Salvatore Scerra, terza commissione consigliare permanente, bilancio e programmazione In riferimento alla nota inviata dalla Presidenza della Regione Siciliana, il Consiglio Comunale, soprattutto le tre commissioni, bilancio, affari generali e ambiente e sanità ci siamo riuniti per adottare un regolamento per quanto riguarda il sistema rifiuti che sappiamo benissimo che c'è un'emergenza totale in tutta la Sicilia e non solo a Gela Su Gela invece noi chiederemo all'amministrazione quindi di attuare soprattutto il regolamento che noi abbiamo studiato con le tre commissioni e cercare di incentivare soprattutto quelli che differenziano e punire chi non rispetta le regole Prima come consigliere comunale poi insieme a tutta la commissione bilancio abbiamo chiesto e soprattutto ottenuto il consiglio straordinario per quanto riguarda questa approvazione quindi un ringraziamento vale al Presidente del Consiglio e quindi noi già domani sera possiamo adottare questo piano ovviamente abbiamo portato delle modifiche sulle linee guida da attuare e quindi speriamo che questo piano venga recepito ben presto dall'amministrazione Successivamente diciamo che come commissione bilancio andremo a fare un regolamento per quanto riguarda la Tari però vorrei fare un appello alla città, un appello a differenziare di più, a essere meno negligenti e soprattutto a non buttare gettare la spazzatura fuori dagli orari e soprattutto nelle zone periferiche della città dove c'è meno controllo cerchiamo di mantenere pulita la nostra città, ne vale la pena e soprattutto andiamo a diminuire la Tari successivamente